Ciao amici, come andiamo? Sti bene? Casa, lavoro, famiglia? Un canino mangiato, un gattino pure? Ok, sono contento. È da un bel po' che non ci vediamo, eh, perché sono stati... perché ci sono stati, punto. No, faci scherzi a... non sapevo che dire, allora... comunque ci sono, ci sono, sono qui. Aggiornamenti... no. A quello che ho detto nel discorso di fine anno sta procedendo come dal copione, come si dice, no? E quindi andiamo avanti così. Sto indagando, la sto vedendo... e boh. Sto mettendo altri... sto mettendo altri video, belli, meno belli, più belli, quello che c'è. Gli iscritti... questa volta sono andato a vedere senza andare a leggere, come si chiamano. Gli iscritti stanno aumentando sempre di più e questo davvero contento. non voglio superare nessuno, non voglio fare nessuna gara con nessuno, ma voglio essere io, basta. Gli iscritti... Gli iscritti... Siamo orientati a febbraio, è già il secondo mese di quest'anno. Eh, vabbè. Se qualcuno vuole farmi delle domande, io ci sono sempre, lo sapete. No, mi raccomando, non stronzate. Domande serie. Non offendete. Perché? Chi viene? Se mi arrivano messaggi che offendete, io li tolgo, non c'è problema. Va bene, ho 100 anni, ho 110 anni, ho 120 anni, va bene, va bene. Cambia canale, perché mi guardi? Cambia canale, non guardarmi. Guardate, non dovete... cioè, se dovete scrivere, stonzate, me lo scrivo e cambiate canale. Ok, questo è il quanto. Spero che stiate bene tutti, animali domestici compresi, ok? Ci vediamo all'approssimamento. Non so che dire, ragazzi, ho detto quello che so. Ho fatto proprio questo video perché è passato un mese dall'ultimo, quindi... io solo mi avevo che dire, ok? Ciao ragazzi, state bene, fatevi raggi, eh? Vi raccomando, non mangiate tanto, come faccio io. Ciao!